Ciao qui è Joe, di istituzione attrazione il video di oggi rispondo a una domanda che ci avete inviato o meglio avete avuto il coraggio, l'audacia di inviarla in non uno, due, almeno quelli che ho contato io ma bene o male il concetto è questo Ciao, ho letto in un tuo articolo che senza l'attrazione biologica e sessuale non ci si può fare niente ma non si potrebbe manipolarla, ad esempio leggevo che avviene quando si hanno geni differenti o dei feromoni di un determinato tipo? Seconda domanda Ragazzi cosa ne penso? Ne penso che già ci sono i vari, voglio dire, guru di pura filosofia e chiacchiere in Italia non vi basta, cioè da quante angolazioni, da quanti cazzo di orefizi volete essere perculati quando si tratta di questa roba Ora io, ragazzi, premetto una cosa, capisco che, voglio dire, quando uno inizia non sa che pesce pigliare perché sente uno, sente l'altro, non sa nulla e dice boh magari questo c'ha ragione, che ne so io lo capisco, io quando iniziai fondamentalmente una delle pochissime fonti formative era un libro, che più che un libro era un romanzo fondamentalmente questo raccontava dei millemila guru, poi in realtà, cioè, sapendo meglio di che gente questo raccontava, un po' delle merdine oggi che sappiamo le cose come stanno, francamente, i più, i più di loro, la sta grande maggioranza e quindi, ragazzi, io capisco che, voglio dire, quando si inizia si vorrebbe credere a tutto non si sa discernere cioccolato dalla merda e compagna cantante però, voglio dire, io penso oramai di aver buttato fuori non so quanti corsi, non so quanti video gratuiti centinaia di ore, comunque, di formazione, anche se solo gratuita non è arrivata l'ora di smetterla, di farvelo buttare al culo, proprio, della serie che vi piace comunque, ragazzi, se volete smetterla con le minchiate, iscrivetevi al canale